salve ragazzi eccoci qua di nuovo io e ignoto salve siamo alla parte 48 però diciamo che tecnicamente abbiamo ricominciato proprio la partita quindi che bello e niente abbandoniamo il campo si dove andare avanti con il gioco e quindi andiamo avanti con la storia avendo ricomincia tutto da capo quindi ok posto si io farò un personaggio malvagio vedete però un personaggio vuoto si abbiamo già visto come è cambiata la storia si in certi punti abbiamo cambiato no devi staccartela devi staccarti cuore scuro si 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 no volevo un attimo andare prima io cuore scuro deve andare sotto con aizio si mi scordo come si fa a cambiare personaggio senza ogni volta premere il tasto laterale qui non lo so io clicco sul personaggino e ok arrivo però ci sta sicuramente il modo per per evitare di fare questa cosa ci sta un qualche tasto alternativo per forza vabbè tu sei già lì quale arriva ok intanto non lo so questi punti hanno visto tutto ok adesso non troppo ok andiamo avanti con cura scuro e live se li vado io vai eccolo comunque eccoci speriamo in bene che oddio che è successo apriamo il bar aprire la porta! nessuno si arriva! le ordine Zeblor! questo pacco di goblin sarà in ogni seconda! cosa sta succedendo? i goblin sono nella nostra città! aprire la porta Zeblor, ora! ti lascia i goblin qui? dove sono i druidi? no c'è tempo! è spettacolare! aprire la porta! pure te lo so di migliorati, sono tutti i dettagli si hanno rimigliato comunque più la qualità si 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 perché l'ho immaginato che il mondo? ma è proprio come si è sentito il voce di Dustin Prupp e tu ne è caduta vabbè vabbè che ce la facciamo vabbè tranquillo tutto a posto oh siamo i primi si vuoi buttarlo giù o vuoi posso? si prego dai si sparta ok l'altro è tuo? si ehm l'attacco normale si quella madonna anche te non scherzi l'hai sfilettato vabbè alle spalle c'è una percentuale di gritti che era tanta tecnica 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 io con la tua maledizione quotidiana te lo bevo ok ok madonna accrittato l'npc c'è il png pazzesco vabbè l'npc png vabbè l'npc vabbè l'npc vabbè l'npc vabbè l'npc vabbè l'npc vabbè l'npc è sicuro è sicuro lui era una pistola quella cosa una balestra a una mano che carino uccidilo perché lo vuoi ce l'avevo anch'io con Astario nell'alterante di Kori che ne avevo due in me e non lo usavi quasi mai e come non lo so lo usavo sempre solo che ne avevo due e facevo tutta libertà ah tu già era con quello che usavo si maestro Jedi non l'avevo mai capito facevo un'onda dell'energetico ogni santa volta non capivo no con come si chiama con cosa con Astario lo attaccavo un sacco di volte perché avevo due di quelle lì piccoline si falla comunque avanzare si che tiro di merda che hai fatto sorella vabbè era peccato 1 eh no te tocca a te vuoi che è bello scontro quest'altro che è così eh figo che tu gestisci uno e tu gestisci dall'altro molto figo adesso qua è mio prego prego dopo di lei il bersaglio deve essere una bestia eh questa non è una bestia scusa non è una bestia quello scusami cosa vuoi fare volevo dargli il comando ah no ma no attacca attacca amicizia con gli animali non volevo no quello a fare lì non funziona con quello a fare lì con quella a fare lì con quello a fare lì se quell'animale va usato solo durante le prove ah ok beh seguiamo anche lì lì ottimo no? si si forse mi stai giocando bene però no inti abbiamo l'high ground qua sopra noi due ok critico eh vabbè quella si cogliona eh stupido è un intelligence artificiale non è che cosa ti hai aspettato abbiamo un attacco di opportunità non è artificiale eh beh vabbè vabbè io ho detto intelligenza tipo già non lo dico eh l'high ground è troppo più porco giù l'ha fatto marino l'ha fatto marino copione è mio quello il mio incantesimo ma si di la fuck bravo ma l'ho ucciso io o l'ho ucciso tu? sulla pietra sulla pietra per non farmi male bellissimo dai uccidilo riesco eh ucciderlo o no si mancato no no corpo a corpo non ci arrivavo posso darti un consiglio adesso al 3 che puoi scegliere un incantesimo prenditi marchio del cacciato ok è importantissimo per il ranger eh ma poi leggo anche le caratteristiche comunque si ci sta ah il marchio si ho capito quale ok lo che marchi un nemico prima di colpirlo si 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 ho capito quale per aumentare il danno critico esatto no danno e basta in realtà ho capito però quelli stanno a camminare con una tranquillità signori eh boh beh stiamo di livello si 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 andiamo un attimo prima di poi salgo di livello sto salito di livello prima salito di livello qui ok ho capito che ti prega ho capito che ti costa tanto ok livello 3 oh cosa ho sbloccato ma è la madonna aspetta cosa ho sbloccato compagno del ranger ah eccolo ah devi scegliere la classe no se lezione del sottocasso si ma la selezione ah no lo devo scegliere e tu si si aspetta che voglio prima scegliere l'incantesimo ah cura ferite un buono raffica di spira raffica di spira raffica di spira che si fa l'attacco di un digimon ahahah che poi si è quella di 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 togemon raffica di spira bravo si si oddio dopo questo ok no no vado con cura va forse meglio passo veloce eh veloce salto potenziato eh anche questo sarebbe vabbè usiamo quello di cura per il momento no metti il marchio del cacciatore no non hai capito incantesimi non c'è il marchio eh non c'è il marchio eh si è un incantesimo e dov'è il marchio marchio del cacciatore ah eccolo la è vero l'ho saltato proprio devi tirarlo prima di ogni combattimento poi ogni volta che uccidi il nemico bersagliato puoi ritirarlo gratis allora vediamo le azioni ah ecco qua vedi il signore delle bestie vabbè quindi è il compagno cacciatore delle tenebre che cosa fai? ok ah ok incantesimi ah pure questo camufattamento di sé ah ok no vabbè vabbè andiamo con questo eh questo che cosa c'è eh incantesimo sostituto in che senso cambia con puoi cambiare un incantesimo che non ti piace con un altro uno solo vabbè no con niente non mi interessa vabbè io già sono a posto non è che mi serve ok sono a posto ho già i miei incantesi che mi interessino appunto a posto ok cuore scuro invece devo ancora livellare eccola qua salia di livello scuro vabbè accetto basta che posso fare ok tu ancora a livellare? eh sì io con la classe magica ho gli incantesimi mi dava da prendere ok vedi equipaggiamenti volevo guardare se c'era qualcosa di interessante di roba soldi soldi ho visto solo soldi zana di work mi prendo ogni tanto prendo robe belle oh pregamea di unto non so perchè però che beh non so cosa te ne fai comunque no lo so però però so io volevo attivarlo a prescindere ok andiamo? si no aspettano te ora ora vedi a cosa succede vai ah vuoi andarci tu stavolta dai sei tu si dai dai questa volta tocca a te stavolta ti lascio fare a te e tu eri pronta a lasciarci ammazzare e tu eri pronta a lasciarci ammazzare non puoi incontrare meglio di quei stupidi errori vai 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 picchia tanto è compaesano tuo dai stai guardando stai guardando si 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 voglio vedere cosa succede qua puoi fare il cattivo dai guarda è arrivato si dico la quattro siiii dai stufi il pagamento non ho chiesto di nessuna giuda chiesto di nessuna giuda porca mi chiesto di aprire la porta nulla per salvare te cattivo mi chiesto mi chiesto si 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 dai aspetta aspetta attacca e micchia attacca ehm tira colpa all'uomo dai all'uomo no se mi chiede anche la 3 che cosa in tini avevo una mezza idea di ah figo tanto te lo puoi fare minchia 16 minchia 16 no no ma non ho forza io si riprovo ma non ho forza eh tu dovevi minchia buono che culo che potenza questo questo è questo è il quanto di come ci hanno trovato che l'hai steso è male un destro letale è ancora giù e scappano dopo voglio provare a parlarci con quello per terra aspetta che sta succedendo un'animazione ok aspetta che sta succedendo un'animazione ok sono proprio sorry io grazie per la tua scuola sono Zevro qui sono scappati quei due quei due sono scappati uno sono io l'Oiettatore è troppo bello è troppo bello prima era bello sentire sono io delta 28 adesso sono io l'Oiettatore ehm bene metto dovrei assicurarti i visitatori non sono più benvenuti pellegrini pellegrini ok la smetto ah oddio sto morendo scusate ragazzi un po' bene l'Oiettatore questo attacco ci sarà solo sfruttare il loro risolvo come vuoi se tanto va bene il goblin ha avuto il druid Halsin è un giudizio ma non l'abbiamo tornato da l'espedizione di Aridin se non è troppo serio come potete provare il suo apprendizio Nettie è con gli altri druidi nel giro hanno iniziato un ritual di ridurre la giro dalla giro dal mondo non possiamo rimanere ma siamo sfruttati se torniamo non siamo combattanti siamo refugiati da Eltarell abbiamo preso qui dopo i gnomes hanno attaccato sulle ruote siamo due tifling diversi si io sono un tifling di Mephistoph e lui è uno di Asmodeus si ma si è che si è che è divertente si è si 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 possiamo sperare che i cittadini di Baldur sono più più aperti ma non possiamo arrivare con quelli che bloccano il passaggio grazie a te io sono un razzista ho degli umani ho scelto la parola vieni 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 con me adesso aspetta ma lui è ancora vivo si 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 ci parlo no perché uno stravaledetto passante lui tira pugno in faccia no ma è stato bello perché sai che aspetta 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 è stato bellissimo perché se ci pensi tu hai fatto la parte stronza io sono stato quello che l'ha sollevato quindi sono tutta un'altra persona se succedeva guarda come se ne sta andando bellissimo dai vieni aspetta ah vuoi andare d'acqua direttamente si aspetta io posso parlare con lo scogliatto è vero ci parlo io con lo scogliatto perché ci parlo io perché si no posso parlarci io anche io non mi interessa perché dai guardati la scena stai guardando ho paura che cosa gli farai sei stronzo non so già che se gli farai vedi guarda che sguardo oh 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 sei cattivissimo perché ah che cattivista non sia dovuto ma questo è cattiveria Mi è venuto addosso No, mi è venuto addosso, sì Vabbè, questo sei tu dei stronti Vieni che c'è il bugbear da uccidere qua che sta Vabbè, che cattiveria Che cosa stai facendo? Eh, devo salvare una tizia Ah, sì, oddio Vabbè, ma tu muovimi Eh, il problema è che sono troppo lontano Eh, me lo dici adesso, cavolo Potevi aspettare Eh, l'importante era attaccarlo Adesso tu puoi arrivare con calma Eh, ho capito però E questo io non l'avevamo vista la volta a scopo Ah, ecco No, perché non eravamo riusciti a salvarla E quando non eravamo riusciti a salvarla a questa? Un'altra run Il bugbear avrebbe ucciso la tizia Ma ricordo questa run Ah, no, non ricordo io Oh, vera Vabbè, eh, ah, giusto, è finito il turno Non posso fare nulla Vabbè, eh, sì, bene Cioè, poi io sono malvagio Perché la sto proteggendo quella là? No, non lo fai Non rompere Voglio vedere la cinematica Almeno io Perché la prossima Saremo tutti stronzi Ma non esageriamo E ci sono scogliato Verita, lei sopravvive Che sta a casa Oh No, ma io voglio uccidere lui, infatti Puoi uccidere anche lei Ma non rompe i coglioni Ti ho permesso già di uccidere uno scogliato in defesa Oh, vaffanculo Ecco Vieni Porco giuda Ecco, visto? Il karma Il karma Il karma E' stato scogliato E' stato scogliato E' stato scogliato Ma non sei qui per le eroiche Oh, io Il karma È stato scogliato Alla sua pelle Mi chiede E' stato scogliato Il karma È stato scogliato E' stato scogliato E' stato scogliato Allora io Questa è stata scogliata Mi hai beccata Dammi la moneta E non mi rileme Ok Ecco I E' stato scogliato Mi hai beccato Ammi la moneta E non mi rilemo Mi hai beccata Mi hai beccata Per sempre nella mia memoria. Ora prendi i miei risultati a quella ironia e lasciami solo. Quindi i nostri interessi non si intercettano. Sono sicura che ci sono altri bugbears da maturare. Basta di successo trovandoli. Non c'è... ormai ce l'hai parlato tu. No, te lo dici di nuovo, sì. Ha tutto il tempo per parlare con te. Infatti cambia tutto l'argomento. No, ripete la stessa cosa. Ma te l'ho data la moneta? No. Ah, allora me la prendo. Sì, fallo. Ma tu non sei da Eltarell, anche. Può dire. Vuoi esprimere perché ti ricordi delle tue? Vedi, mo' è diverso a te. Vabbè sì, ti lascia fa perché tanto sei tu stronzo. Quindi la sentai. Lei è infatti 23. Sì, mi metterò a essere trovata in un po' di ferro per questa f***a coin, non ti? Ok. Facciamola come un pagamento per la risposta. Ora lasciami in pazza. Una coin di soul, vero a suo nome, guarda una morta soul dentro. E serve in una caratterizzazione molto valutante. Guarda come sei contento. La soddisfazione. Vedi, Denta, come si fa a prendere una moneta? Io sono riuscito dove tu hai fallito. Questo perché il lato oscuro è più fuori. Non è vero mai. Hai ucciso uno scogliatto, ricordatelo. No, mi sei venuto addosso. Aspetta che sto scavando. Ah giusto, perendi, perendi. È vero. Come abbiamo fatto la volta scorsa a non farlo? No, perché non l'abbiamo visto. Ah, è vero. Pozione di caduta morbida. Fine. Bene, andiamo. Cioè, non scendiamo da qua però. Non possiamo scendere da qua. Esatto. Perché c'è l'orso che blocca, ti ricordi? Devi parlare con l'orso e farlo spostare. Questa volta sì, posso parlarti tranquillamente. Ah, posso parlare anche con le mucche questa volta di nuovo. Così giusto, perfetto. Sì, c'è una mucca più piccola di parlare con quella. Sì. Però devi anche passare i tiri, se no. Sì, ce la dovrai fare tranquillamente. Uh, vestiti! Sì, ma sono bruttissimi. Eh, vabbè. Però quello che mi piace a me, io lo voglio. E poi ci sta un cappè. Oddio. Che cosa brutta. Ok. Ah, ma c'era il coso qua, il Lobbit. Vabbè sì, qua stai facendo. Devo vendergli un po' di roba, devo. Sì sì, anche io dovrei vendergli un po' di cose tutto il tempo. Eh, ma vai dall'alto, tanto c'è Dammon al centro del... Quello mezzo diavolo, farla con lui. Chi? Nella zona qui, nell'accampamento, c'è un diavolo tipo. C'è Dammon, ti ricordi? Lui vende la roba. Sì, lo cerca di ricordare dovera. Più avanti. Sì, no, lo cerca di ricordare dovera. No. Vuoi qualche armatura o qualcosa? Cosa c'è l'interessante? Ci sono i guanti cattura proietti, e poi per te c'è un arco. Puoi cercare di ricordare? Puoi cercare di ricordare? Puoi cercare di ricordare? No, non ti serve. Guarda i guanti cattura proietti. Ci sembra di essere un buon momento di parlare. Ah? Stai attraversando a me? Un orc. No, non l'abbiamo senso. Quaint. Ok, faccio l'Arcano, se non sbaglio. Devo far funzionare l'Arcano con questo mucca. Ah, fai di con la mucca. Sì. Dai, aggiungi bonus. Assolutamente. Prego che stai andato. Ah, ce l'ha. Oh, che culo. Ok. Ah, poi fai la kachin con Will, che d'altra volta non l'hai visto. E' vero, non l'ho visto. No. Tu sei... in piedi. Vediamo se riesco a farmi regalare una pozione. Cosa ho appena letto. Personazioni avanti. Vecchio mio, sono una diavolessa. in piedi. Oh. Ci provo, dai. Ah, eccolo il vantaggio quale è. Ecco, amicizio con gli animali. Ecco come funziona. Ah, figo. Bella, ce l'ho fatta. No. 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 Beh, ci sono riuscita a fa' qualcosa. Ashrak. Tutti i bambini. Qua. Uomini. Will è dove ci stanno allenando. Parla con Will. Aspetta, dove è Will? Ah, eccolo qua. Se scusa. E' vero, non ho visto la cinematica tua. E' vero. E' vero. E' vero. E' vero. E' vero. Madonna, già l'ha pigliato. E' vero. Non è vero. Un bambino. Vabbè. E' con c'è. Infatti è vero. Non ho mai visto la sua cazzine, è vero. Oh, non posso farlo! Non sono come tu! Umi, non ho bisogno di essere come me. Tu solo hai bisogno di acquistare tempo per riuscire. Vieni, io credo in ti. Tu puoi fare questo. Non posso farlo, non posso farlo. Ha 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 ha, il risposto è brutto. Tu sei la blanda delle fronte, riuscendo a la costa di Avernus. A presto, un figlio diabolico, un pezzo di rosso, un singolo curato, un pezzo di freddo, un pezzo di freddo, un pezzo di grado, un pezzo di grado. Il pezzo di grado di grado, tu sei sull'船! Sì. Nooo. Alla stuscia più in fondo nella sua mente non mi va. Ma tu giusto grazie agli dei. Mi servo tutti gli amici possibili. Questa era bellissima. Mmm, Dume per scendere la pelle e diventare un lividio. E così le storie siano. Ma non abbiamo spruzzato alcuni tentacoli. Non ancora ancora. Potrebbe solo essere buona luce. Non nemmeno. Le tue mind collide ancora. Will chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal war-devil. A threat to the living. Evil incarnate. S**t! Sei riuscito a prendermi? Sì. A ruolarlo? Sì, no, sto ancora parlando. Advocatus Diaboli. Ah, storia successo, ok. Sì, sto guardando. Sì, sto guardando. Sì. 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 Non l'ho creato. Quello che ti seguo. Eh, tanto puoi cambiarla nel luogo. Sì, ma non l'ho ancora creato. E fallo? Ti viene dietro? Eh, ho capito, però sto a parlare con lui adesso. L'hai finito? Poi falli. Certo. 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 Eh sì. Ah, le arpie. Le arpie. Buona fortuna con il tuo problema diabolico sembra che... no. Scusate, ma... Non c'è tempo per me. Un plan splendido. Siamo parlare più da qui. Ok. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Bene. Aspetta, vorrei fare quello del bambino. Giusto. Quello che fotte quello del bambino. Cosa, la moneta? Sì, spero stavo... Ah, vieni, vieni, che prima c'è Zorru qua da fare, che è più co... Vieni qua. Dov'era, dov'era, dov'era. Con l'Aizel. Sì. No, ci andiamo dopo tanto, vieni qua. No, sono qua, sono più contento. Vieni. E questa devi... Non l'avevamo fatta l'altra volta. No, infatti. Zorru? Vai tu. Non. Sul serio? In Kresh Kaleer, un saluto formale inizia con un bambino. Ma cazzo vuoi? Veramente? E' questo moneta con te? E' terrorizzato. Ma veramente chi lo stai facendo fare? Quanto sei stronzo? Lower. Che dì... Oh Dio... Oh Dio... Quanto sei stronzo... Oh Dio, quanto sei stronzo! Quanto sei stronzo! Vabbè, sei... Quanto è cattiva era qui in questo... Guarda, guarda, tu sei cattivo ancora di più. Oh Dio... Oh Dio... Tu puoi mantenere gli occhi gialli. Beh, effettivamente. Dopo vado a modificarlo, non faccio. Ancora? Mi scuscio, mi scuscio... Oddio, ma si sta mettendo i ginocchi! Mi asso stare... Fammi parlare con lui da solo adesso. Poi... Io... Ho avuto abbastanza. Ah ok, proprio paura totale. Il tuo tipo è vero complianto. Un trattato utile. C'ho... Un pezzo così gatto, che necessita di poco per farlo. Bella conversazione, viaggia. C'era chiaro. Se c'erano Githyanky west of here, questo dovrebbe essere un obiettivo. Sono non familiarizzato con il... Beh... Tu mi educarai sui problemi di questo... ...fai run. Ah, c'ha... Ah, l'ha detto. Ancora insisti! La Cresce mantiene il Zaethisk. Sì, ci prenderà il Parasite. Per Covenant, non posso dire più di più. Si sta scialando a parlare con te, eh? Oh? Sì, ma è sempre... Ah, già giusto. Vai. Di cosa? Eh, la Goblin. Ah, sì, vuoi già andare a parlare con la Goblin, ok. Tanto. Siamo qua. Ah, sì. Vai tu, vado io. Vado io. Già hai fatto la tua parte. Porta il cammino. E' pronto ad accedere io. Mamma, io lo so. Non 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 lo so. Ah, questo è il punto. Stai fuori dal culo. Non la so. Non me lo so. Questa è la Königia. Non le so." Si tratta prima che perdere i tuoi nervi. T. Flynn, se mai avessi avuto da cominciare... Non sbagliato! Sono chiuscita dall'Absolute... Sono piaciuta! Oh, ti sbagliare, ok? Non mi pare. Sono chiuscito dall'Absolute. Mi ha dato un protettore! Tu devi maturare anche lui! Tu! Mentre! Sono cattivo! Sono stato un po' cattivo Ma io odio queste cose Allora, io sono cattivo Quando vedo cose brutte Tu sei stronzo e basta E adesso la uccido io A chi? Alla Goblin? Ah certo, prima fai l'interrogazione Dai, ora ti ho fatto Prima fai l'interrogazione, dai Non mi fa parlare Mi dice di aprire la gabbia Allora posso parlare solo io Non mi sapevo perché mi proteggono Non mi importa E' troppo tardi per farmi ammigliare La mia tribu è venuta Sì, sì, bla 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 Qui immagino con la pistola Ah, posso attaccarla? Sì Però dopo Cioè durante Fammi vedere Fai La uccidono Fammi vedere se mi faccerai i coglioni E ti dico che ho sui bambini E ti dico che ho sui bambini Non importa Quanto di una Bambini Puoi probabilmente Sticcare la tua Ero Se qualcuno Sticcare la Ero Ma Buoyark Un Goblin Ero Sì 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 Ok Posso ucciderlo? Aspetta Un bel racconto Quanto lo hai pagato Una moneta Sono giusto È la vera Io dico sui bambini Fuori da qui E ti dirò Dove Ora puoi ucciderlo Che cattiveria Del tipo Grazie Uccisa Che bello La soddisfazione Andiamo Vedi com'è bello Io faccio la cosa buona Tu arrivi e fai la cosa È figo No Poliziotto buono o poliziotto cattivo Eh sì Ora fottiamo Vai Vai fare La monetina No no aspetta Prima Donnie Prima Donnie Perché con Donnie Non ti dice niente Donnie Invece lo fotturo Ti ricordi quando mi sono avvicinato Che scava Non è lui No no Ma non è lui E però anticipiamo L'ingresso della porta Sì ma Dobbiamo Trovare la parola Donnie E salvare il bambino Dall'arpia Sì aspetta Eh infatti L'ho sgamato L'ho sgamato Vedi Vediamo cosa si Vabbè ma dai Ma questo si chiama sfiga Da 10 a 4 sul serio Ma dai Non mi puoi fare Un scherzetto L'avevo fatto perfetto No no Lo devo sgamare Non mi hai fatto Ah ecco vedi Non mi puoi fare Un scherzetto Su sta cosa Grazie Vedi ho trovato Ah l'hanno migliorato Adesso si vede l'ingresso Ok Ora si vede bene l'ingresso Dove sei tu? Comunque puoi entrarci No lo so Però era per sgamare l'ingresso Ora puoi fare quella cosa Del bambino E glielo facciamo dopo Faccio io Fallo tu Che tu sei pericoloso Guardati la scena Stai guardando Sì sto guardando Molta paura Non vedo la moneta A te sta vero Vai Prendi questo ring È successo Fai fai Vediamo la sonda Ma come può essere Ma è un anello Non è una moneta Ah adesso è una moneta Ok Che è una moneta Sì Vedi That's the kind of luck You get from one of my lucky rings I've got more where that came from Real cheat too Interested? Ok Ok Ok, bene. Siamo ancora. Head or tail, chiamiamolo. Head or tail! There. Happy? La due, la due! Testa. Perché poi è sempre... perché quella truccata è sempre testa. There. Happy? Mister come on! Ok. Head or tail? L'hanno migliorato. Head or tail! There. Happy? Fine. Head or tail? Si, lo stai facendo incazzando ancora di più. Fai lasciando il giro nei coglioni stesso. There. Happy? Head or tail? Testa. Head or tail! There. Happy? Mi stai uccidendo, mister. Tu davvero sei! Solo prendi il ring, eh? Un esempio. Ora, vuoi guardare le altre cose che ho avuto? O magari vuoi andare? E' qua andartene qua, se lo sbaglio, giusto? Sì. Grazie agli Dei! Ok. Ah, giusto, devo poi... Aspetta, ma qua c'è... Eh, qua devo farci io. Eh, i druidi qua. Letta la mia figlia andare ora! Oddio che hanno messo la barbetta al padre. Eh. E non ce l'aveva la volta scorta. Vedi che l'hanno aggiornato. Letta la mia figlia, Mrakrishabra! Riketan ha fatto tre tavoli! Ma che problemi hai qui? Dai, evoca anche tu l'orso. Ma aspetta... Come si fa, aspetta? Eh... Nel nicotine smir si vede... Crea compagno animale. Ah, è vero, sì, sì, sì. Ce lì ne uno. Vediamo cosa crei. Era! Quello lì più diventi forte tu, più diventa forte lui, eh. Sì, sì. Puoi anche fare creare famiglia e creare un ragnetto più piccolo. Fico. Però credo più avanti, non adesso. No, no, già adesso puoi farlo. Però guarda se ne incantissimo creare famiglia, tipo. Tro. Non so, se ignorarli e avanzare. Che ne dici? Ignora e avanza. Vedi su. Dai, cazzo. Stop! Un altro passo... E Magrim ti prenderà come un sacco di grano. Sei proprio sicura? Attacchiamo. Tu dici, ma non senti quella buona. E poi sei tu quella buona. Esatto. Lo so, però io li ho sempre urdiati. Li ho sempre detto. Dai, no, stavolta sono buono. No, vedi giù perché sennò avevo voglia di fare. Ho stato un po' tentato, cazzo. Va bene. E doveva arrivare le informazioni. Ok, con calma. No. Allora, come si fa allora? Aspetta. Crea famiglia, hai detto? Sì. Dovresti sapere di creare famiglia. Puoi trovare famiglia. Ragnatela. No, no, no. Su, il tuo personaggio dovrebbe poterlo fare. No, adesso ancora no. Non ancora? Allora, se non hai scelto l'inizio. No, non posso. Vabbè, vabbè, vabbè. Allora, dai vai a parlare con l'orso così lo fai levare da lì. Ah, aspetta un secondo. Ah, aspetta, oddio, ho cliccato in ra... Oh, no. Allora, signor, sbagliati gli ospiti. Io... Devo rimanere nato in sospesa. Intanto Ignoto vi spiega un po' alcune cos'ucce della gioco e quello che è successo prima, ok? Vabbè. Perché avevo ricominciato al cavo, intanto. Faccio la parte di Isalfira, quella che suona... Intanto... Tu l'hai già vista. Allora, mi sa che mi ha lasciato. Quindi... Ehm... Non so. Non riesco neanche a vedere la chat, quindi se avete domande da fare non posso rispondervi, purtroppo. Ehm... Vabbè, andiamo un po' in giro qua a vedere da fare con... Però... Lo state inquadrando Delta, quindi... Non... Vedete quello che faccio. Ma parliamo con questo qui. O... Ehm... Pedramo con il locale. Ehm... ... I ne vedete quale. Ehm... Il rio è giusto. Ehm... I vedete... Ehm... Ehm... ... ... Dio odio le mail, madonna le mail della domenica, sì perché poi ci diranno cosa c'è da fare lavoro da lunedì sta settimana, vediamo un pochino. Sì, sì, vedo. All the sandwich you want, we're not leaving till it's safe. We'll stay in a few. I wish I could understand you. Maybe two. What about a bear? I'd like to keep our guts on the inside. I smell drama amongst these adventurers. What have you heard like recent times? Everything's over. Keep their confidence if you insist. Keep this up and you'll have blood on your hands. стих. What about a bear? Yeah. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.